Numerosi comuni della Piana di Gioia Tauro, passati al setaccio dal personale della Compagnia dei Carabinieri di Taurianova e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM di Reggio Calabria. La task force messa in campo, operante nell'ambito del protocollo d'intesa, sottoscritto nel 2020 fra l'Arma dei Carabinieri e l'ADM, ha incentrato i propri controlli sulla prevenzione e sulla repressione delle violazioni in materia di scommesse sportive online e videolotteri, ovviamente non autorizzate. Il tutto per garantire il rispetto delle norme e la tutela del gioco, lecito e responsabile. Grazie al profico e qualificato supporto operativo prestato dai funzionari dell'ADM, i Carabinieri competenti per territorio hanno proceduto ai controlli nei comuni di Cinque Frondi, Città Nova, Polista e Taurianova. In particolare le verifiche, svolte in completa sinergia tra diverse competenze messe in campo, si sono concentrate su quasi una ventina di imprese commerciali gestite dai titolari delle licenze per la raccolta delle scommerse, per un totale di circa 300 avventori controllati. Gli accertamenti svolti sono spaziati al controllo delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale, alle regole di impiego per i lavoratori. Infine non sono mancate le verifiche tecniche su slot machine e sui terminali VLT posseduti, le cui apparecchiature devono necessariamente rispondere ad un server centrale che gestisce l'intera rete nazionale. All'esito delle verifiche, i militari dell'arma hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Palmi quattro gestori di sale slot. Per due di questi è stata elevata anche un'ingente sanzione amministrativa perché all'interno del loro punto scommesse sono state trovate videolotteri non collegate alla rete statale gestita dall'Agenzia dei Dogane e dei Monopoli. Attraverso l'alterazione di alcune componenti informatiche, in particolare gli investigatori ritengono sia stato aggirato il controllo dell'Agenzia proprio per evadere i tributi dovuti in materia di scommesse. Ulteriori regolarità hanno poi interessato altre sei sale scommesse i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente per illeciti legati al testo unico sulle leggi della pubblica sicurezza. L'importo totale delle sanzioni ammonta a 35.000 euro. In tutti i casi i procedimenti sono attualmente pendenti in fase di indagini e gli investigatori non escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori.